Da lunedì il Comune di Cosenza sarà interconnesso con il SIT, Sistema Informativo Tra Pianti, istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale e sarà attivata la possibilità per i cittadini di esprimere all'atto del rilascio del rinnovo della carta d'identità da parte dell'anagrafe comunale la volontà di donare gli organi. Sarà chiesto al cittadino se intende iscriversi a questa banca dati nazionali e quindi dare la disponibilità all'espianto degli organi. È in assoluto l'atto di generosità più bello che si possa fare nei confronti del prossimo ma soprattutto nei confronti di tante persone che continuano a sperare. Si tratta dell'atto conclusivo del progetto Una Scelta in Comune organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'ASIT di Cosenza, Associazione Sud Italia Trapiantati e il Centro Regionale Trapianti. La Calabria in questo percorso per fortuna non è tra le ultime, si è adeguata a quello che è un piano nazionale, una legge a tutti gli effetti e quindi anche il Comune di Cosenza adesso risulterà da lunedì attivo a tutti gli effetti che potrà trasmettere le dichiarazioni di volontà nell'archivio del Centro Nazionale Trapianti. Questo è un atto di grande civiltà. Ognuno di noi ha il diritto, il dovere e la possibilità assolutamente di sottoscrivere una dichiarazione di volontà per la donazione di organi e tessuti e noi invitiamo a farlo in un momento di assoluta serenità.